E conto alla rovescia Nemoli per La Signora del Lago, domenica 31 luglio, il debutto su di un palco che galleggia sul lago Sirino, poi avanti con le repliche fino al 4 settembre. L'opera è un fantasy in chiave musicale del regista Giampiero Francese, al centro della storia i personaggi che in qualche modo hanno tracciato la storia di questi confini lagonegresi. Il beato Domenico Lentini, la Madonna del Sirino, il sacco di Lauria, l'arpa di Vigiano, la piccola Ranonia, tutti legati al filo conduttore che è l'amore per la propria terra. Sì, abbiamo scelto questa chiave perché crediamo che il turismo è sogno, è leggerezza, ma non superficialità. Attraverso questa chiave, poi un fantasy con musici originali, con 5 brani inediti, canzoni, fontane, danza, 60 figuranti in scena, è uno spazio naturale molto molto bello. E quindi noi ci proviamo attraverso questa formula ad intercettare questo turismo di mare, ma anche raccontare la storia di questo lembo di terra. La signora del lago è il macroattrattore turistico che darà all'ustro a tutta la Basilicata. Oggi partiamo, iniziamo questa grande avventura. Una grande avventura, una grande opportunità per il nostro territorio. L'obiettivo principale è quello di valorizzare, dal punto di vista turistico, un'area già di per sé molto bella, molto suggestiva, una location straordinaria, veramente straordinaria. Noi abbiamo soltanto pensato di far sì che quelle bellezze naturali diventassero risorse prime e poi ricchezza per il territorio. Ci stiamo provando con grande serietà e con grande impegno. Speriamo di farcela. La signora del lago è un altro pezzo importante che arricchisce l'offerta turistica di questa regione per vivere un'esperienza, per vivere un'emozione e per vivere un territorio, per vivere un luogo particolare, importante, quale è appunto quello del lago di Sirino.